Un arresto e 24 denunce. Questo è il bilancio dei controlli a largo raggio effettuati dai carabinieri della Compagna dell'Aquila coordinati dal Capitano Francesco Nacca. Servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e anche all'abuso di alcol e stupefacenti durante la guida. Nel corso di tale servizio infatti una persona è stata arrestata per tentato furto aggravato in abitazione e 24 persone in totale deferite in stato di libertà. Alle persone denunciate sono contestati diversi reati dalla minaccia e violenza privata alla truffa, dalla guida e stato di ebrezza al porto illegale di armi, oggetti e atti ad offendere. Nel corso degli stessi controlli una persona è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di rifiuti speciali, un'altra per maltrattamenti in famiglia e un'altra ancora per ricerche archeologiche non autorizzate. Non è la prima volta che il Capitano dei Carabinieri dispone questi controlli mirati ed in effetti grazie a quest'arma preventiva i furti in città non sono considerati più un'odiosa piaga come l'erano stati in passato in un periodo specifico. Uomini e mezzi impiegati in modo massiccio soprattutto di notte per controllare il territorio ed è questo un ottimo deterrente. Da segnalare anche la denuncia ai danni di un aquilano da parte dei carabinieri di San Demetrio nei Vestini diretti dal maresciallo Alessandro Mastropietro per ricerche archeologiche non autorizzate. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri a cercare materiali di interesse archeologico nel sottosuolo con un metal detector. Il fermo del giovane aquilano ha ricevuto anche il plaso delle autorità locali e testimonia la proficua collaborazione tra i militari dell'arma e il ministero dei beni culturali.